Che cos'è il silenzio? Il silenzio è uno spazio emersivo dove noi ci immergiamo, riflettiamo e cerchiamo il significato delle cose. Sono una ragazza sorda, sorda dalla nascita e adesso porto gli impianti cocreali. Fino a 12 anni ho portato gli apparecchi acustici, poi mi è stato contigliato di fare l'intervento, proprio qui a Reggio Emilia. Ed è proprio qui che sono rinata ed ho conosciuto i suoni della vita. Ma vi devo dire una cosa, che il silenzio mi ha insegnato una cosa importante, cioè quello di prendermi cura del mio difetto. Infatti lo vedo come una forma di bellezza, come un pregio, ma soprattutto come un segno del destino. Ed è per questo che dico che il silenzio è veramente il mio maestro, perché mi ha rivelato il vero significato della bellezza. La bellezza ha un concetto, ognuno può interpretarlo come vuole, infatti gli cercatori, studiosi, artisti hanno cercato di dare una risposta concrezziva. Ma in realtà non esiste. Secondo me la bellezza è un viaggio, un'esperienza, un viaggio che ci porta verso la scoperta di questo mondo, il mondo delle emozioni. Esiste la bellezza estetica, la troviamo in arte, nell'architettura, nella pittura, nella musica, nella poesia. Esiste la bellezza etica, la troviamo nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni, nei risguardi di un bambino, nelle esperienze, nei sogni, nell'amore che lega la nonna con la nipote, nel rugo di un anziano che rappresentano la saggezza. E noi ragazzi abbiamo tanto da imparare dagli bambini e dagli anziani. Mi prendo cura della bellezza architettonica attraverso questo strumento, il disegno. Vengo da un paesino vicino a Palermo, che si chiama Pollina. Tutto è partito da questa meravigliosa città, che è il mio sole, il mio punto di riferimento, che mi ha fatto capire tante cose. Tutto è partito da questa giornata d'inverno, così talmente fredda, e dovevo visitare una chiesa, si chiama Cappella Palatina, che si trova a Palazzo dei Normanni. Sono entrata in questa chiesa e il freddo d'inverno era completamente sparito. Ho sentito un calore che mi ha avvolta, che mi ha abbracciata, qualcosa di inaspettato. Non era solo il calore dell'architettura e della città, ma era il calore di Dio. E lì ho capito che dovevo seguire i miei sogni. Uno di questi è naturalmente il disegno. Questa magica parola disegnare, deiva dal latino designare, composta dalla paraticella de e dalla parola signum, che significa segno. È un elemento così piccolo, ma ricco di espressività, che ci dà tante informazioni. È costruito da due elementi, il significato e il significante. Il significato è con l'espressione di contenuto, che è interpretato dalla nostra mente. Il significato è con l'espressione fisica, interpretata dagli organi di senso. Possiamo dire che il disegno non è altro che un insieme, disegni emozionanti, vibranti, che formano un'unità. Ma come si disegna l'architettura? Naturalmente viaggiando, con gli occhi, con la mente, ma soprattutto con il cuore. E tutto parte dall'osservazione. La solidità mi ha portato a questo, a guardare i dettagli, a guardare le piccole cose. E quindi ho un'osservazione molto più sviluppata. È un'osservazione attenta, acuta, penetrante, per poi interpretare l'architettura attraverso la tecnica. E infine rilevare quegli elementi architettonici che definiscono l'architettura. Molto spesso il disegno viene visto come uno strumento di progetto. Ma in realtà ha un concetto molto più profondo. È quel legame tra il pensiero e la mano. È conoscenza, narrazione di storie, di persone, ricerca, rigore. Vi faccio vedere questi miei lavori. A sinistra questo schizzo realizzato da vivo del Colosseo, dove c'è il risalto di questi due strumenti, il tacuino e la sua sposa, la penna. Una coppia così romantica, la coppia più romantica che io conosca. Non litigano mai. È incredibile. A destra la Basilica di Santa Maria della Salute, dove come potete vedere è molto più dettagliato. Perché il dettaglio, secondo me, è l'emblema della bellezza. Perché ci insegna ad amare le piccole cose. Ci insegna a conoscere la verità. A sinistra una serie di schizzi di architettura maggiormente barocca, realizzati con tratto libero, fluido, senza rigore, ordine, e ascoltando la musica jazz. Sia barocco che jazz è privo di ordine. È un caos ordinario di emozioni. E quindi questo intrescio di disegno e musica escono fuori queste forme che suscitano stupore e meraviglia. A destra l'interpretazione dell'architettura. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Io dico che l'architettura è lo specchio dell'anima dell'architetto, del disegnatore. Un'interessante tecnica del negativo. Invece di usare il nero su bianco, c'è il bianco sul nero. C'è veramente carico di espressività. Tra l'altro Santa Maria del Fiore e la cupola di Brunelleschi sono oggetto di studio di tanti miei disegni. Perché è veramente l'emblema dell'innovazione dove la tecnica e la bellezza si fondono. A destra abbiamo questo mio laboratorio dove voglio far vedere che è importante sperimentare perché ci porta verso tante strane. Queste rappresentano le più belle esperienze della mia vita grazie all'Università di Camerino. Ho avuto l'onore di disegnare per Papa Francesco in visita a Camerino. E poi questo murales, come potete vedere, che si trova all'interno dell'Università. Si tratta del Palazzo Ducale che è purtroppo attualmente inagibile a causa del terremoto del 2016. Ragazzi, perché disegno l'architettura? Perché sono terribilmente affascinata da questa forza silenziosa. C'è una sintonia tra me e l'architettura, una forza che mi racconta la cultura, la storia, la bellezza. Una forza che mi ha aperto gli occhi. Un altro mio sogno è design, per progettare per il mondo, per le persone, per il futuro, per migliorare il futuro. Cos'è il futuro? Dove stiamo andando? A cosa ci porta? Il futuro siamo noi. Il futuro è già qui. Siamo noi perché siamo delle figure poliedriche, multidisciplinari. Conosciamo tante discipline. E ci può portare alla progettazione perfetta di prodotti, sistemi, architetture. Una di queste strade è questo. Disegno e tecnologia. Queste due discipline possono andare d'accordo? Assolutamente sì. Sono spesso contrastanti, litigano, fanno un casino d'inferno. Ma possono andare d'accordo. Attraverso queste esperienze immersive, ratta aumentata, ratta virtuale, videomapping, spazi immersivi. Sono delle esperienze che hanno lo scopo di immergere, di avvolgere, coinvolgere l'utente per far vedere l'architettura disegnata in un modo completamente nuovo. Questo è l'esempio. È un progetto realizzato con l'Università di Camerino, un videomapping per la chiesa di Sant'Agostino di Amatrice. È interattivo attraverso un dispositivo che riesce a rilevare gestualità della mano. Sono stata l'amatrice perché non potevo fare un progetto senza conoscere. Ho conosciuto il cuore degli amatriciani e della città, ma veramente. E c'è una cosa che li lega, la memoria. La memoria è una cosa così preziosa perché nel suo silenzio ci ricordiamo di persone, momenti e naturalmente di architettura. La particolarità di questo videomapping è che invece di usare video, immagini che normalmente si usano, ho usato dei disegni realizzati a mano, che hanno lo scopo non solo di vestire l'architettura, ma quello di conferire la giusta anima, di colmare quel vuoto e naturalmente di scuotere il cuore delle persone. Ma a cosa servono i disegni oggi? Servono a farci pensare, servono a proiettare tutte le nostre idee su carta, a cogliere la modellazione parametrica che oggi ci offre, che ha come chiave il numero e dal numero nascono delle geometrie complesse. A cosa mi ha portato? A riscoprire un'altra bellezza, la natura. Noi abbiamo dimenticato la natura, abbiamo dimenticato che noi siamo natura. E io l'ho capito attraverso questa disciplina che si chiama biomimesi. La biomimesi consiste nel riprodurre idee, soluzioni, processi del mondo naturale per trasferirli nel mondo artificiale. Esistono due ricerche, top-down e bottom-up. Top-down significa dall'alto verso basso. È una ricerca che facciamo noi progettisti, che parte dall'esigenza artificiale fino alla risposta naturale. Bottom-up è una ricerca che fanno i ricercatori, biologi, che parte da basso verso l'alto, dallo studio nella natura fino alla sua applicazione artificiale. Mi ha portato alla progettazione di questa struttura. Si tratta di una tenda di emergenza, che ha un comportamento responsivo. La tenda di emergenza per situazioni catastrofiche. Sì, sono molto sensibile a questo tema, perché comunque, stando nelle marche, che studio l'università di Camerino. L'esponsivo significa che ha la capacità di modificarsi, di aprire e chiudersi, grazie a stimoli che vengono dall'esterno. Ma quello che vi voglio far capire è l'importanza del disegno all'interno della progettazione. Tutto parte da questa esigenza, appunto, di progettare questa tenda, fino alla nostra risposta naturale. Il pangolino è il bruccogeometra. Il pangolino è quell'animale molto curioso, ha la capacità di arrotolarsi su se stesso, con una coratta molto rigida. È un'interessante struttura dal punto di vista geometrico. Infatti questo è stato uno spunto per la parte esterna, la struttura. Il bruccogeometra. Perché si chiama geometra? Perché è preciso, ha un movimento così incredibilmente geometrico. Ed è questo che mi ha portato a studiare il movimento e la struttura, fino all'analisi geometrica, che partendo da un modulo triangolare alla sua complessità. Questo mi ha portato ad esplorare le tante discipline, geometria, disegno, architettura, design, per prendermi cura degli altri. E questo è la chiave che ci porta verso l'innovazione. Ma la vera bellezza qual è? Siamo noi. È il nostro cuore. E molto spesso non ascoltiamo il cuore. Preferiamo seguire la ragione. E io vi dico, aprite quella porticina e troverete le risposte che cercate. Ma in questo ci può aiutare un'altra bellezza. È il silenzio. Ed è per questo che vi parlavo del silenzio. Perché il silenzio significa stare dentro noi stessi. È lo specchio della nostra personalità. Stiamo vivendo un momento particolare, dove il Covid ci ha isolato dal mondo. Dalli familiari, amici, fidanzati. Ma non ci ha isolato da noi stessi. Ed è proprio questa bellezza che ci dà la possibilità di prenderci cura di noi stessi. Di ascoltare il nostro cuore. Quindi impariamo ad apprezzare, accogliere il silenzio. Impariamo a sentire la bellezza, ma soprattutto la nostra e dei nostri sogni. Perché ragazzi, la bellezza è la vera strada che ci porta verso la ricerca, l'innovazione, ma soprattutto l'emozione. Grazie.